Poi in diretta dall'Isis Foresi di Portoferraio e professori Chirici e Girgenti che ci raccontano la loro esperienza a Chester in Inghilterra. Perfetto, allora parto io velocissimamente, queste sono le nostre parole per quanto riguarda la convivenza perché insieme al professore abbiamo potuto stare una settimana insieme e per quanto ci riguarda, non tanto per noi ma soprattutto per gli altri ragazzi, apre l'orizzonte a tanti nuovi mondi di vivere anche all'estero. Le mie due parole sono organizzazione e metodo perché abbiamo avuto l'opportunità di visitare una scuola dove abbiamo capito che ogni docente ha la sua aula e sono gli alunni a spostarsi a cambio dell'ora e perché usano un metodo didattico molto utile per l'insegnamento. E soprattutto ci siamo divertiti e questa è la cosa fondamentale. Ciao!